...vale una classifica decisamente migliore. Sì, tre punti che ci mettono in una situazione più tranquilla, importantissima, una situazione un po' difficile. Sono contento che sono stato chiamato in questo momento e sono riuscito a dare il mio contributo. Il calcio è bello perché ti dà sempre la possibilità di dimostrare e di rifarsi nelle situazioni spiacevoli. Spero di poter continuare a dare una mano perché questa squadra comunque non merita la posizione in cui si ritrova. Questa sicuramente è una vittoria che ci dà entusiasmo e ci permette di andare avanti con serenità.